Prenderò pochissimi minuti, grazie intanto di questo invito, grazie di avermi invitato. Io ho preparato proprio un intervento brevissimo, ma proprio per dare il senso, per rispondere a questa tua domanda, appunto, che senso ha avuto negli anni passati e nelle edizioni passate il Festival. Intanto, appunto, il Festival, l'hai già detto tu, è nato molti anni fa, nel 2008 e la prima edizione importante è stata nel 2009. E lo dico per chi, appunto, partecipa a questo nostro incontro, ma anche poi per chi vedrà la registrazione nei giorni prossimi. Ecco, da due anni ho trasferito la responsabilità del Festival alla professoressa Poli e al comitato scientifico, in particolare la professoressa Zuccoli, la professoressa Mancino e il professor Saccoman. Io li ringrazio, come prima cosa proprio mi sento di ringraziarli per aver accettato questo passaggio, perché sono persone che hanno sempre più o meno partecipato al Festival, comunque so bene che è una cosa gravosa, so bene che è un impegno gravoso. Oltre a ringraziare loro, voglio ringraziare anche un gruppo ristretto di docenti che ha seguito in modo assiduo il Festival e ha partecipato all'organizzazione. Alcune persone sono qui, per esempio la dottoressa Marta Franchi e altri non ci sono, per esempio il dottor Giovanni Colombo, il dottor Gianluca Salvati, la dottoressa Maria Fatima Riva, alcuni di loro sono insegnanti nella scuola primaria, altri sono educatori, ma anche i professori Chiara Lugarini, Paolo Bove e Gioia Loisi, che sono docenti appunto di scuola media e di scuola superiore. Perché li ringrazio? Non è assolutamente un fatto formale. Li ringrazio perché ciascuno di loro ha contribuito in maniera diversa, in maniera anche diversa a seconda degli anni, a seconda delle edizioni, ma ciascuno di loro ha contribuito davvero allo sviluppo del Festival e qualche volta ha contribuito anche a superare delle difficoltà che ci sono state. E poi queste persone che ho rammentato poco fa hanno consentito anche di ampliare l'orizzonte del Festival. Penso per esempio al collegamento che il Festival ha potuto fare con una cooperativa che si occupa di educazione, che è la cooperativa Stripes, che opera nel Rodenze, a Rò e nel Rodenze. E' stato un collegamento molto importante che è avvenuto attraverso la dottoressa Marta Franchi e che ci ha consentito, per esempio, di fare un'edizione dei diritti, precisamente l'edizione del 2015, proprio all'interno di Expo. E poi anche, naturalmente, il collegamento con Manitesi. La prima cosa che voglio dire, soprattutto per le persone giovani che ci ascoltano, ce ne sono due già che si sono presentate. Ecco, il Festival Il Diritto di Essere Bambini ha sempre avuto la caratteristica e ha tuttora, io credo, la caratteristica di un progetto di ricerca. Nel corso degli anni, fino alla prima edizione importante, quella del 2009, il Festival ha delineato una sua area di studio, che comprende diversi temi. Il primo tema è ovvio, consiste nel far crescere, far conoscere, diffondere la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, sia da parte dei bambini e dei ragazzi, ma anche da parte dei docenti. Perché vi dico questo? Perché noi abbiamo fatto proprio una ricercazione, dopo la prima edizione del Festival, cioè dopo l'edizione del 2009, abbiamo avviato una ricercazione proprio lavorando sul campo e la ricercazione è contenuta in questo volume, uscito molti anni fa, nel 2010, pensate, e poi ripubblicato nel 2015 in questa versione ampliata presso la casa di Fice Guerini. Ora il libro è fuori commercio perché ha fatto il suo tempo. Però vi dicevo di questa ricercazione. Abbiamo fatto una ricercazione per capire come gli insegnanti conoscevano e se conoscevano la Convenzione. E quello che ha risultato è che non è così tanto conosciuta come invece dovrebbe essere conosciuta da chi si occupa di educazione tutti i giorni. Ecco, un secondo tema del Festival, che io ritengo importante, consiste nell'interrogarsi sulla portata e sull'efficacia didattica dei laboratori. Il laboratorio è proprio la struttura caratteristica di tutte le edizioni del Festival. E poi c'è un terzo grande macro tema appunto che riguarda il porsi degli interrogativi su come la dimensione interculturale dell'educazione ma anche le dimensioni artistica, performativa e musicale possano essere applicate alla diffusione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in modo che ciò non appaia agli occhi dei bambini e dei ragazzi come un insegnamento coercitivo o imposto o troppo complicato. Ecco, da quello che vi ho appena detto capite che il mio lasciare la responsabilità del Festival a persone come la professoressa Poli, la professoressa Zuccoli, la professoressa Mancino ha un senso. Perché questo interrogativo appunto su come le dimensioni musicale, artistica e performativa possono aiutare a trasmettere i diritti è stata una costante di tutte le edizioni del Festival. Ecco, questi temi, almeno questi tre macro temi che vi ho rammentato, hanno richiesto ogni volta che si metteva in cantiere una nuova edizione del Festival e Marta lo sa, lo sa Gioia, lo sa benissimo Paolo. Ecco, ogni volta che si metteva in cantiere una nuova edizione, io stessa e un po' tutti noi del comitatino ristretto, così come lo chiamiamo, come lo chiamavo io, ci ponessimo costantemente nell'atteggiamento del ricercatore. Perché? Perché per forza ci dovevamo porre degli interrogativi e per forza dovevamo sperimentare situazioni laboratoriali che ogni volta fossero un po' nuove, ma che anche mantenessero la costanza di un procedimento di riflessione appunto di cui vi ho detto prima. E inoltre poi la seconda cosa difficile ogni volta consistiva in questo, dovevamo individuare degli argomenti e dei temi che appartenessero alla competenza, all'interesse, diciamo alla bravura dei conduttori, dei laboratori, ma allo stesso tempo potessero essere idonei e adatti appunto a coinvolgere davvero i bambini e i ragazzi sulle tematiche dei diritti. Ecco, dopo gli esiti veramente buoni delle primissime edizioni, parlo dell'edizione del 2009 e di quella del 2011, abbiamo sempre avuto una consapevolezza. Vedete, parlo al plurale perché parlo di me stessa, ma parlo anche diciamo del comitato ristretto con cui sempre mi sono confrontata. Cioè, siamo sempre stati consapevoli del fatto che i laboratori del festival avrebbero poi rappresentato dei suggerimenti didattici importanti per gli insegnanti. Cioè, gli insegnanti portavano le loro classi a partecipare ai laboratori, ma contemporaneamente imparavano loro stessi qualcosa di nuovo. Penso, ma gli esempi possono essere davvero moltissimi, ma penso, non so, l'edizione del 2016 oppure le due edizioni che si sono svolte alla triennale oppure l'edizione che si è svolta in Expo nel 2015. Ecco, e non a caso questi due libri di cui vi ho fatto cenno prima, non certamente per fare pubblicità ai libri perché, come vi ho detto, sono fuori catalogo oramai, hanno fatto il loro corso. Ma in ogni caso nelle biblioteche pubbliche le trovate, eh? Le trovate sicuramente perché anche nella biblioteca della Bicocca lo trovate. Ma è interessante questo aspetto soprattutto per coloro che sono ancora in una fase di studio, in una fase di formazione. Perché fra la prima edizione del 2010 e quella del 2015, appunto, abbiamo accentuato l'aspetto riflessivo della professionalità docente. Nell'edizione del 2015 c'è tutta una parte di interpretazione, di ermeneutica dei lavoratori che nella prima edizione non c'era. Ecco, questo per farvi capire che un aspetto che abbiamo sempre curato è stato il tener presente l'aspetto teorico con l'aspetto pratico. Non bastava proporre dei lavoratori, bisognava pensare sui lavoratori, riflettere e se possibile anche, perché no, scrivere sui lavoratori. Naturalmente tutti i lavoratori erano pensati allo scopo di far riflettere sull'idea di diritto e su alcuni articoli della Convenzione. E credo davvero che il Festival nelle sue diverse edizioni abbia trasmesso nel corso degli anni, almeno alcuni tratti che io ritengo importanti della professionalità docente. Intanto il Festival ha sicuramente insegnato ai tantissimi insegnanti che hanno partecipato che un buon insegnante della scuola di oggi e naturalmente anche degli anni futuri deve essere aperto a molteplici possibilità in quanto le classi sono sempre più complesse. Ecco perché la dimensione artistica, la dimensione musicale, la dimensione performativa sono sempre state così importanti. E poi il Festival ha sempre rappresentato, rappresenta e sono sicura che se andrà avanti rappresenterà un invito al nuovo, un invito a sperimentare. Ecco, come vedete sono stata rapida e mi avvio alla conclusione. Voglio soltanto aggiungere un aspetto che riguarda i valori. Tutti noi sappiamo è che i valori etici e civili e civici della Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia sono moltissimi. Noi abbiamo sempre tenuto di conto di questi valori e soprattutto abbiamo tenuto di conto di due valori. tanto nei laboratori e nei contenuti che proponevamo quanto nelle attività collaterali che proponevamo. Per esempio ogni volta c'erano delle mostre, ogni volta c'erano appunto delle tavole rotonde come anche in questa edizione ha già anticipato Anna Maria. E ecco, perciò questi nostri laboratori, gli incontri, le attività collaterali educavano al rispetto degli altri. Non posso non citare una mostra bellissima proprio organizzata da Gioia Luisi nell'edizione del 2011 che riguardava proprio gli adolescenti stranieri. Perciò educare al rispetto degli altri che ha un valore fortemente interculturale e appunto educare alla curiosità nei confronti delle metodologie nuove. E questi due valori, io sono sicura che anche questa edizione del festival che voi ora state presentando e chissà, magari anche le edizioni future permarranno ancora insieme a molti altri. E vi ringrazio ancora di avermi coinvolto in questa presentazione. Grazie.